Non si fermeranno i sindaci, gli automobilisti e gli autotrasportatori dei comuni attraversati dalle autostrade 24 e 25 contro il caro pedaggi che dal 1 gennaio 2019, se nulla dovesse cambiare, nelle prossime ore scatterà con un aumento automatico del 19%. Non si accontenteranno nemmeno della firma del decreto blocca pedaggi da parte del ministro dei trasporti Danilo Toninelli, semmai dovesse arrivare. La protesta al casello autostradale di L'Aquila Ovest, prevista per lunedì 31 dicembre alle 9, si farà lo stesso. È questo l'orientamento dei sindaci di Abruzzo e Lazio, capitanati dalla battagliera sindaca di Carzoli, Velia Nazzarro. Una decisione appoggiata anche dalla provincia dell'Aquila, che tramite il consigliere con delega Energia e Ambiente, Alfonsino Scamolla, fa sapere che lunedì appoggerà l'ennesimo sit-in, a un anno esatto dal primo, nel dicembre del 2017, da quando è partita, in un sabato mattina freddissimo, la battaglia dei territori contro il salasso di pedaggi autostradali. Una decisione, quella di mantenere l'appuntamento all'Aquila, da condividere ancora con tutti i sindaci, ma quasi certamente sarà confermato, anche se nelle prossime ore, al termine della trattativa in corso ormai da ore con il MIT, arrivasse finalmente il decreto da parte del ministro Toninelli e del ministro dell'economia Giovanni Tria. Si tratterebbe soltanto, infatti, di una soluzione tampone di qui a marzo. L'unico strumento che può cambiare davvero le cose è il PEF, il piano economico-finanziario da 3 miliardi e 200 milioni di euro, mai rinnovato da sei anni. È lì che si deve stabilire come calmerare le tariffe. Non solo, sindaci e amministratori chiedono di poter sedere al tavolo delle trattative con strada dei parchi e ministero, sinora sono gli unici esclusi, e di poter ottenere i documenti sulla messa in sicurezza delle due tratti autostradali. Intanto, tra sindaci e Toninelli, resta muro contro muro, con quest'ultimo che ha invitato i primi cittadini a dimettersi, e la sindaca Nazzarro è che lo ha invitato a visitare i comuni per toccare con mano quali grandi difficoltà hanno i sindaci a governarli.